L'ospite del giorno è Gidio Lovito. Buongiorno Martino e ben ritrovato, ben ritrovato a te e tutti i radioascoltatori, i radiovedenti. Radiovedenti, infatti. Sei qui per presentare la seconda serata di Praia Mare Con. Dobbiamo dire la prima? Bella serata perché, a parte la qualità dei due ospiti, due stopper storici, due squadre che sono quello che sono, che hanno la storia, ovvero la Juventus, Sergio Brio, l'Inter, Riccardo Ferri, la serata, come dicevo, era dedicata a un tema di grande impatto sulla salute e sulla vita. L'Istituto Candiolo di Torino, ovvero la Fondazione Agnelli, ovvero questo centro piemontese oncologico, quindi la cura, la ricerca sul cancro, quindi la lotta contro il cancro, avevano sponsorizzato la serata e Sergio Brio sta devolvendo l'introito della vendita dei libri a questo importante istituto di ricerca piemontese. E allora le copie sono state vendute. Mi si era aspettato molto di più, per un semplice motivo, vista la quantità di juventini interisti qui a Praia. Però, come dire, Sergio, Brio e Riccardo, soprattutto, sono rimasti contenti, colpiti anche dalla bellezza dei luoghi. Sergio, Antonio Raffa e la giornalista erano alloggiati, infatti, al nostro splendido, la nostra base logistica, il Castello di Fiuzzi, la Rocca Cosentini d'Aieta, e quindi lì hanno ammirato lo spettacolo di questo golfo, di questa parte calabrese, il Golfo di Policastro. E quindi, come dire, già l'occhio era stato premiato per la gioia dei nostri graditi ospiti. Poi la serata ha fatto il resto. Ringrazio veramente tutti quelli che sono intervenuti, che hanno partecipato, anche con la presenza fisica, ormai va di moda il selfie, l'autografo, la foto di rito. È stato importante, come dire, far sentire la vicinanza non soltanto all'autore, al suo libro, ma al libro, in sé per sé, al prototitoriale che va, come appunto ben sappiamo, in beneficenza. Questa è un'operazione molto bella. Anche perché, permettimi, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è il figlio di Don Allegra Caracciolo di Castagneto Agnelli, quindi la mamma, la vedova di Umberto Agnelli, del papà di Andrea. Quindi, come dire, si può creare un feeling molto forte e negli anni avvenire, anche breve, potremo ospitare qualche campione della Juve di oggi, più vicino, cioè il sogno sarebbe portare Alessandro Del Piero qui a Praia. Non è difficile, anche perché Alessandro ha scritto un libro e ripercorre la sua storia della Juve, quindi potremmo piano piano agganciare anche campioni, come dire, più contemporanei, più famosi. Non dimentichiamo che Bettega lo scorso anno e Brio quest'anno sono due bandiere, sono state due bandiere della Juve anni 70-80 di altissimo livello. E qui segue la Juventus, penso che... Ma al di là di Juventus abbiamo avuto Gianni Rivera due anni fa, Riccardo Ferri l'altra sera, quindi, come dire, noi siamo pronti come rassegna, come Praia Marecon, ad ospitare chiunque, personaggio famoso del calcio, di qualunque squadra, se ha scritto un libro, anche meglio, perché, come dire, leghiamo l'ospitalità a un libro, a un evento. Ecco, questa volta, invece, per il secondo appuntamento, si cambia argomento. Cambiamo argomento, passiamo a un argomento che è stato già ospitato due volte a Praia. Rosanna Lambertucci è, infatti, una giornalista storica della televisione italiana. Ideò, inventò e condusse per venti anni un programma storico del palinsesti RAI italiano, ovvero più sani e più belli. E la dottoressa Lambertucci ritorna a Praia dopo essere vistata nel 2009 e nel 2012 con un nuovo appuntamento, con un nuovo libro, legato alla sua lunga strada di ricerca attraverso il sistema salutistico del nostro corpo, cioè la dieta. Che cos'è la dieta? E la dottoressa Lambertucci spiegherà che dieta non è praticamente il non mangiare o l'astenersi da qualunque introduzione di cibo nel corpo, perché poi lì sorgerebbero altri problemi. Ma la dieta è, invece, un giusto, equilibrato e moderato apporto calorico che, soprattutto, donarrerà lei stessa nei periodi estivi ha bisogno di essere più liquido che solido, cioè introdurre molti liquidi, bere molta acqua, si dice, fino a tre litri di acqua al giorno, soprattutto in giornate calde come questa, e poi è stare attenti a tutta una serie di passaggi. Il successo Lambertucci deriva da essere, è se stessa, un prodotto culturale. Quando il programma iniziò, eravamo nel 1980, credo, ricordo bene, più sani e più belli, da quel momento c'è stata una crescente attenzione per i temi legati alla salute e alla salute alimentare. Se noi, infatti, facciamo mente locale oggi a ciò che è il prodotto della comunicazione, il prodotto culturale, non vi è testata radio televisiva, radiofonica e anche di stampa che non abbia la sua rubrica dedicata al tema della salute, al tema della dieta, al tema dell'apporto calorico più o meno ampio, per non parlare di centinaia di titoli di stampa, di riviste, di settimanali che sono presenti. Ebbene, possiamo dire che è stata la prima in Italia ad essersi incanalata in questo percorso, con grande successo, perché poi era un programma che, se ricordi bene, andava in onda sulla RAI, e quindi, come dire, era la regina, la RAI delle trasmissioni, appunto, in Italia, delle industrie culturali italiane. E infatti, ricordo, ce ne erano due, anzi, lo spazio dopo la TG2, medicinata 23 e quest'altro. Infatti, quindi, come dire, il tema qui era poi reso in forma molto pop, molto popolare. Non occorre essere laureati in medicina o specializzati in scienza alimentazione per affrontare e avvicinarsi a questi temi, ma occorre fondamentalmente avere un minimo, diciamo, di amor proprio, perché poi la salute, come si vuol dire, viene mangiando, ma è il mangiare che poi forma la salute, che crea, appunto, la salute. Davvero, quello che mangiamo. E poi, soprattutto, poi, la dottoressa Lambertucci è una, come dire, autrice, persona molto, appunto, cordiale, solare, ha un compagno calabrese, quindi ha quest'amore molto forte, appunto, per la Calabria. Basti pensare che le sue edizioni, le edizioni webmaster, che pubblicano, che editano, più sono i più belli, in versione cartacea, viene stampato e prodotto in Calabria, a Cosenza, a Rente, per la precisione. Quindi, come dire, c'è un legame ancora forte con questa nostra terra e quindi con questo tipo di attività che lei svolge non soltanto in televisione, ma anche poi nelle piazze, nelle nostre agorà cartacee, come le edizioni. Ricordiamo, quindi, l'appuntamento. Sì, ci vediamo allora, sabato 27 luglio, alle 22.30, orario canonico, in Piazza Italia, con Rosanna Lambertucci, il suo nuovo passaggio sulla dieta più, come vivere, quindi, più sani e più belli, anche nelle nostre realtà estive, dove poi il corpo viene esposto per motivi di prova costume, per motivi di esposizione solare, quindi conviene, ciò appunto. E sarà anche un'altra bella serata, nella quale l'autrice, più che tenere una lezione, dialogherà, vorrà dialogare con il pubblico, per vedere anche quali e quante sono le aspettative alimentari, le diete, il tipo di, diciamo, di regime alimentare che ognuno di noi usa, che nel momento della stagione estiva è chiaramente più incidente, più incidente, poi c'è la prova costume, già c'è stata, però bisogna mantenere ora quella prova costume. Io volevo anche, alla fine ringraziare, se mi è giusto un minuto, i nostri amici, cioè anche gli sponsor, sono i nostri piccoli sponsor che hanno reso possibile la serata di Brio, Ferri e degli altri amici. È un piccolo contributo che questi amici, non li nomino per non, come dire, giustamente violare le regole della pubblicità commerciale, ma il manifesto è il lato B del manifestino, mi permetti di regrazi a quei sei amici che hanno tre giuventini, due interisti e anche un milanista, quindi si è prestato appunto bene, hanno dato un piccolo contributo per rendere più agevole la presenza ai nostri ospiti per l'ospitalità praiese, per quel giorno, giorno e mezzo, due, anche un altro nostro autore, e quindi per far sentire quel calore c'è appunto calabresa a livello anche di cucina, di enogastronomia, hanno assaggiato piatti appunto tipici delle nostre zone, quindi come dire, anche un piccolo tentativo di coinvolgere i giovani imprenditori appunto locali, anche perché il rammarico sta a Garo Martino che tolto il contributo, il patrocino comunale, purtroppo questa rassegna è sola, e mi hai capito cosa voglio dire, è sola. Indubiamente, ma come purtroppo avviene per tanti e per tante manifestazioni quindi se ringraziamento all'amministrazione comunale che mi va dal 2007 ormai è il tredicesimo anno che ringrazio l'ente comune di Praia e Mare devo purtroppo dire che c'è poca presenza di contorno di altro, quindi invece altre realtà non più famose o meno famose di Praia ma altre realtà turistiche hanno una forte presenza di investimento di imprenditoria locale e privata. Qui ancora siamo lontani da quello che vorremmo appunto fare, non ci si lamenti poi che... Speriamo che poi la mentalità cambi. Ma più che la mentalità deve essere anche l'approccio cioè il nostro contributo cioè vedi noi svolgiamo anche un'attività nella quale forniamo un contributo locale alto, basso, piccolo, grande poco importo cioè un contributo di informare di comunicare e di formare anche una realtà appunto locale alla quale una radio, una televisione un giornale un operatore culturale va sempre incontro ecco su questo si dovrebbe incidere soprattutto quando un libro è in beneficenza che è la cosa più importante Grazie mille! Grazie mille!